Qua iniziamo noi a correre Non lo ho capito Chissà perché Aspetta Fermate lì No no vado su io Ci passo qua Grazie Mi spieghi la fattucco Cosa ti fai I gerosoni Tanto che andiamo su spieghi Eh parla Sono all'ultimo Sì Adesso sì 17% dai Sì 18% 18% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 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 22% 21% 22% 21% 21% 22% 24% 23% 29% 23% 24% 24% 25% Grazie. Sì, ciotolato pur. Grazie. 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 Sì, 130. Speriamo. 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 Speriamo.